Questo non è un video tutorial, vi voglio solo far vedere come ho realizzato un logo, che non è e non sarà quell'ufficiale del canale, però potete vedere come se ne può realizzare uno e gli strumenti di photoshop perfetti. Grazie per la visione! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501